ma sicuramente non credo che fare bene ehi, ciao che fai? stavo guardando il video del Master Presepio dell'anno scorso e quest'anno ci saranno delle novità dai, l'anno scorso non ce l'ho fatta a partecipare ma quest'anno sicuro volentieri ti spiego un pochino come funziona quest'anno allora, rispetto all'anno scorso dovrete mandare dei video del vostro Presepio Nel quale però ci dovranno essere degli elementi che hanno a che fare con il riciclo creativo Oh bello E in particolare la cosa più importante è che dovrà esserci la presenza di una stella cometa Oh che bello Bene, mi metto subito all'opera Partecipate anche voi! Sta andando... Sta andando? Sì, quando vuoi Dove vai? A Bethlehem E come fai ad andare? Ci vuole una stella Perché non la sei? Scusami Eh, bisogna farla Nessuno mai mi ha detto come seguire la stella Eh, ci vuole la guida spirituale Sì, è troppo lunga, è proprio difficile Ricordati che adesso attraversarla con l'avvento inizia, anzi riprende quello che abbiamo lasciato l'anno scorso Il nuovo Master Presente Ci sarà una gara di Presente con bellissimi premi E ci lasceremo guidare dalla stella Giorno per giorno Ci sarà un racconto Per arrivare a Bethlehem puntuali Questo racconto parlerà di una stella E di come cogliere questa stella E di come seguirla Sarà una cosa fantastica Anche perché il Master Presente Ci deve essere una stella Sopra il Presente Eh, fantastica Ognuno se la deve inventare E il Master Presente Vi dirà come fare A costruire una stella A come soprattutto Seguire una stella Arrivederci a Bethlehem Io parto Rallegriamoci Non c'è spazio alla tristezza Glorie a te Emanuele Glorie a te Figlio di Dio Glorie a te Cristo Signore Che nasci per noi E porta la gioia Glorie a te